Avete presente quella scena di quel film con Adam Sandler e Al Pacino cameo di Johnny Depp, cameo, devo confondere con una torta cameo? Due camaci che lo caricherò, il piccolo filmato, Dan Cacino, Al Pacino nella sua performance, i giovani d'oggi direbbero crinci, imbarazzate, è nato il bambino di Al Pacino che ha giocato di bacino di uccellino, che critico è lei, critico di tutte, cornette alla crema, cornute, io sono un tipo istrionico, bacinesco, carrivalesco, burlesco, spaghetti a mezzanotte, lasagna a mezzanotte, la segna a mezzanotte, sono buone. Questa roba, caricata, s'autodistruggerà. La segna a mezzanotte, 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 dolce, un po' salate, lasagne al cioccolato che schifo, forno a microonde, dove mi ficcherò per farmi saldare le cervelle, avete un cervellino, siete proprio degli stupidini, degli sciocchini. Capitano Cino e Pacino e Tancacino, Tancacino, come che balla? Balla anche bene, fra l'altro. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.